Ragazzi, sempre nel Bisenzio, ho preso un cavetano bellissimo, gigantesco, sui 500 grammi, sui 40 centimetri, con il Martin argentato alla fine gialla. Guardate che bestia ragazzi, è una cosa mostruosa, mamma mia che spettacolo, oddio. Ora lo slameremo, aspettate un secondo, è veramente una cosa mostruosa, veramente un cavetano enorme. Eccolo qui, guardate, guardate che bestia ragazzi, è qualcosa di bellissimo, mamma mia, guardate che bestia. Ora, eccolo qui, guardate quanto è bello ragazzi, è andato, segue la corrente, diventa più grande, alla prossima ragazzi.